buona giornata da nico schiodetto un possente enorme campo di alta pressione anche nel corso di martedì governerà la scena meteo su gran parte del vecchio continente con i massimi proprio tra il centro nord italia e i balcani le perturbazioni quindi rimarranno molto più ad ovest in aperto atlantico a centinaia e centinaia di chilometri dall'italia nel dettaglio copertura nuvolosa una bella giornata soleggiata cieli sereni o poco nuvolosi un po di variabilità di nubi alte solamente sul sud della sardegna altrove poco da segnalare velocemente mappa in sintesi dell'italia ci conferma una bella giornata con cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque e le temperature di notte fredda ancora valori anche sotto i 23 gradi da aperta pianura nord e sulle conche appennini che poi durante il pomeriggio invece massime prossime 15 16 gradi al nord addirittura sfioreremo quasi i 18 19 gradi sul medio alto versante tirrenico tutti i dettagli precisi sull'app di travi meteo